pace del signore cari fratelli e sorelle in cristo vi voglio condividere una parola da parte di dio molto molto importante potremmo dire che è una parola essenziale per la nostra vita spirituale è una parola che ci deve avvertire amen che deve scuotere i nostri cuori noi che siamo figli di dio questa parola deve penetrare nelle profondità del nostro essere perché questa parola è per noi e per te e per me che siamo la chiesa del signore infatti questa parola non è per il mondo per quelli che sono perduti che sono ancora nelle tenebre che sono morti nei falli e nei peccati questa parola non è per loro perché loro non possono capirla non possono comprenderla loro sono già persi ma questa parola fratelli e sorelle è per noi che siamo la chiesa di gesù cristo amen noi che siamo stati riscattati dal sangue dell'agnello noi che siamo stati lavati nel sangue di gesù cristo noi che siamo stati chiamati da lui dalle tenebre alla luce e che oggi possiamo intendere la sua volontà possiamo ascoltare la sua parola questa parola è per noi che siamo nati di nuovo amen vi voglio leggere nella prima lettera dell'apostolo paolo ai corinzi capitolo 16 verso 22 questo singolo versetto che ha un grande contenuto ha un grande insegnamento un grande avvertimento per la nostra vita spirituale amen prima corinzi 16 versetto 22 dice così se qualcuno non ama il signor gesù cristo sia anatema maranata alleluia questa è una parola fratelli che deve essere un grande avvertimento da parte dello spirito di dio per ognuno di noi qui lo spirito santo ci insegna che se qualcuno di noi pur dicendo di essere cristiano pur dicendo di appartenere a gesù cristo al popolo di dio o di far parte della chiesa o di essere un evangelico ma non ama il signore se qualcuno dice di essere un credente ma non ama il signore e anatema fratelli questa è una parola molto chiara molto forte anatema vuol dire maledetto cioè una persona che è separata da dio una persona che ancora nelle tenebre perso smarrita nelle tenebre perso smarrito può dire di essere cristiano può dire di essere credente può dire di essere evangelico può dire quello che vuole ma se non ama il signore in verità è anatema è maledetto cioè non sta vivendo nella benedizione una persona maledetta vuol dire che non sta vivendo nella presenza di dio non sta vivendo nella grazia di dio non sta vivendo nella luce non sta vivendo in comunione col signore anche se dice di credere in gesù anche se dice di essere evangelico tra virgolette ma se non ama il signore sta vivendo ancora sotto la maledizione sta vivendo ancora lontano da gesù cristo dalla sua volontà dalla benedizione perché la volontà di dio è che noi amiamo il signore con tutto il nostro cuore amare dio non è soltanto dire belle parole a lui durante la lode o durante la preghiera ma amare dio cari nel signore vuol dire osservare la sua parola mettere in pratica la sua parola avere un cuore disposto ad ubbidire a lui costi quel che costi essere persone che si mettono al suo servizio amare dio vuol dire servire dio amare dio vuol dire ubbidire a dio come possiamo dire di amare lui se poi siamo indifferenti o insensibili alla sua volontà come possiamo dire di amare lui se poi non ubbidiamo alla sua parola o se poi non lo preghiamo perché se io amo il signore desidero stare in sua presenza pregare lui vivere in contatto con lui se io amo il signore desidero ogni momento sentire la sua presenza non ci sarà indifferenza nel mio cuore se io lo amo sarò attirato gloria a dio attirato del continuo alla sua presenza e mi vorrò consacrare sempre di più avvicinare sempre di più stringere a lui sempre di più ma se qualcuno non ama il signore anche se si trova in mezzo alleluia al popolo di dio fa parte di una chiesa fa parte di una comunità dice di essere cristiano dice di essere evangelico ma se non ama il signore è anatema è maledetto vuol dire che non ha la benedizione della presenza di dio sta vivendo un inganno religioso un inganno diabolico un inganno della sua propria carne chi non ama il signore fratelli è ancora smarrito anche se si trova in mezzo alla chiesa chi non ama il signore gesù cristo sia anatema cioè è separato da dio se una persona non ama in verità il signore cioè non osserva la sua parola non è disposto non è desideroso non è pronto a ubbidire la sua parola è ancora separato da lui non sta vivendo nella sua presenza non sta vivendo in comunione con lui non sta vivendo nella benedizione ma è ancora nel buio chi non ama non conosce dio noi dobbiamo amare lui fratelli al di là dei nostri limiti umani delle nostre imperfezioni delle nostre debolezze delle nostre battaglie noi dobbiamo avere un desiderio di amare lui perché lui ci ha amato per primi alleluia lui ci ha tanto amato che è morto per noi allora noi non possiamo essere indifferenti insensibili o superficiali perché ciò sarebbe non amare lui se tu sei insensibile indifferente superficiale sei freddo sei tiepido non lo stai amando ecco perché il signore riprendeva una delle sette chiese dell'asia nel libro dell'apocalisse diceva ritorna al primo amore hai perso il primo amore ravvediti e ritorna a fare le opere di prima ritorna al primo amore fratelli non c'è cosa più pericolosa più terribile che chiamarsi cristiani e non amare il signore in verità vivere una vita superficiale quelli che non hanno il desiderio di ubbidire alla parola di dio che non si sottomettono alla parola di dio alla volontà di dio non lo stanno amando è solo un'apparenza e tali persone davanti agli occhi di dio sono anatema sono separati da lui non fanno parte del corpo di cristo stanno vivendo un inganno hanno bisogno alleluia di ravvedersi fratelli dobbiamo ogni giorno chiedere al signore di aiutarci ad amarlo amare cristo osservare la sua parola essere desiderosi disposti ad ubbidire a lui e sottomettersi alla sua volontà amè solo così possiamo vivere nella benedizione se lo amiamo e se vogliamo crescere giorno per giorno in questo amore per lui perciò fratelli esaminiamo le nostre vite riflettiamo e chiediamo a dio di aiutarci ad amarlo con tutto il nostro essere a me in questo il più grande comandamento amali dio tuo ama il signore tuo con tutto il tuo cuore con tutta l'anima tua con tutta la mente tua con tutte le forze tue ama il signore amè e ama il tuo prossimo come te stesso questa è fratelli l'essenza della vita cristiana amare il signore che il signore ci aiuti ad amarlo in verità in spirito in verità non solo a parole non solo con buoni sentimenti buoni propositi non solo così superficialmente ma amarlo in verità essere persone disposte pronte desiderose a ubidire alla sua volontà e alla sua parola amè fratelli nel nome di gesù vi saluto nell'amore del nostro signore gesù cristo benedetto in eterno amè amè grazie a tutti grazie a tutti